La direzione investigativa antimafia di Catania ha confiscato beni per un valore di circa 1.500.000 euro riconducibili ad Angelo Santa Paola, cugino di Benedetto Santa Paola, capo indiscusso dell'associazione mafiosa di Cosa Nostra Catanese denominata Santa Paola Ercolano, ucciso nel 2007 insieme a Nicola XVI e anche gli appartenenti al clan. L'attività operativa condotta dalla DIA è stata eseguita in applicazione della normativa che consente di aggredire il patrimonio dei mafiosi anche dopo la loro morte. Il decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribune di Catania è il frutto di una complessa attività di indagine svolta dalla DIA e coordinata dalla procura antimafia di Catania. Nell'ambito dell'indagine culminata con l'operazione Arcangelo, Angelo Santa Paola risultava essere gravemente indiziato anche per il GIP del Tribune di Catania che emetteva un'ordinanza di custodia cautelare per aver diretto l'associazione mafiosa denominata Santa Paola, ordinanza che non veniva eseguita in quanto, come detto, Santa Paola venne ucciso. Il provvedimento di confisca ha interessato diverse unità immobiliari di Catania ed Augusta, auto e numerosi conti correnti bancari intestati a Giuseppe e Grazia Corra, rispettivamente suocere e moglie del boss e anche svariati conto correnti per un valore di circa 250 mila euro. È un'operazione avviata poco tempo fa e oggi abbiamo notificato i decreti di confisca definitiva dei beni e anche questa volta lo Stato si appropria di beni che erano stati illecitamente raccolti dalla criminalità organizzata. Quanto riguarda invece la confisca cosa? Abbiamo confiscato degli immobili, degli appartamenti, una bottega, un conto di conti corrente per un pari di 250 mila euro e per il totale di circa un milione e mezzo di euro. È un importante risultato che va a incastonarsi in una più ampia attività che sta svolgendo l'ufficio in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, con il Procuratore Salvi e quindi questo è l'ennesimo risultato che giunge a termine di un iter che è seguito anche dal Tribunale di misure di prevenzione. Prima abbiamo fatto il sequestro preventivo e poi la confisca definitiva dei beni. Quindi è un risultato importante, è una bandierina che lo Stato mette.